Buongiorno, buona domenica, con un tollerabile ritardo di tre minuti iniziamo la sessione di questa mattina e la iniziamo con la lezione di Stefano Gasparri dell'Università Ca' Foscari di Venezia che ci parla della migrazione longobarda in Italia tra mito e realtà. Grazie. Allora, devo naturalmente prima di tutto ringraziare gli organizzatori per avermi consentito di tornare a Spoleto dopo forse più di dieci anni, quindi è sempre un piacere essere qui a seguire queste settimane. Allora, la migrazione dei longobardi è stata raccontata innumerevoli volte. Essa rappresenta un tema classico della stereografia, anche perché la narrazione delle vicende che la riguardano, nelle due principali versioni di cui disponiamo, contenute nell'Origo Gentis Langobardorum del VII secolo e nei primi due libri dell'Historia Langobardorum di Paolo Diacono, è senza alcun dubbio, insieme al racconto di Giordano e sui Goti, la più lunga e affascinante narrazione tra quelle del suo genere. Tuttavia, la svolta maturata negli ultimi decenni sotto l'egida del linguistic turn per ciò che riguarda l'interpretazione delle fonti scritte e della New Archeology o archeologia processuale con tutte le sue derivazioni successive, ha drasticamente cambiato il modo di interpretare l'antico passato dei popoli barbarici che invasero l'Occidente romano, come abbiamo sentito anche nelle relazioni dei primi giorni. Non crediamo più, o almeno una buona parte degli storici di cui faccio parte anch'io, non crede più che i Longobardi che invasero l'Italia, entrando in Friuli nella primavera del 568, fossero i discendenti diretti di un popolo che, sia pure con trasformazioni più o meno profonde al suo interno, era partito dalla Scandinavia poco prima dell'inizio dell'Era Cristiana e che poi aveva vagato a lungo nell'Europa centrale, tra l'Elba e il Danubio, ai limiti del mondo romano. Un popolo che nel corso dei suoi spostamenti sarebbe entrato in contatto con i romani per la prima volta all'età di Augusto e che da quel momento in poi sarebbe apparso in modo intermittente negli scritti degli autori greco-romani, con lunghe pause, per poi inserirsi nell'area pannonica nei primi decenni del VI secolo. L'idea che c'era dietro questa ricostruzione era che la continuità di un nome, quello di Longobardi, registrato da autori diversi in tempi e luoghi anche molto lontani fra di loro, fosse l'espressione dell'esistenza di un medesimo popolo, inteso come una chiusa comunità di discendenza. Questo assunto, questa idea, che in tempi più antichi veniva declinata nei termini di un'affinità biologica dei componenti del gruppo, a partire dal libro di Rijnan Venskus del 1960, venne inteso nella forma di una persistenza nel corso del tempo di nuclei portatori di tradizioni e insieme di nomi antichi, nell'ambito della teoria dell'etnogenesi. Una teoria che però anch'essa, come è stato evidenziato piuttosto di recente da Michael Borgholt, è stata molto criticata e in parte almeno superata, quantomeno nella sua forma originaria. Lo sviluppo di questa lunga fase demolitoria della teoria delle migrazioni barbariche ha lasciato comunque un grande vuoto che solo in parte si è riusciti a colmare. In particolare, l'origine e il significato dei nomi delle tappe della migrazione di Longobarda che ci riguarda, diciamo, riportati nelle saghe che fanno parte di quei materiali che Herwig Wolfram definì pre-etnografici, rimangono problemi aperti. C'è un'altra osservazione da fare. La storiografia italiana, quasi per una divisione dei campi di competenza, è rimasta sostanzialmente estranea a questo dibattito che invece è impegnata a fondo la storiografia di lingua tedesca e quella anglosassone. Le conclusioni di quegli studi sono state recepite come semplice premessa alla ricostruzione dell'età Longobarda in Italia e questo vale in particolare per quelle interpretazioni più legate alla tradizionale immagine della secolare migrazione dell'agenza Longobarda, meno invece per quelle più innovative di cui si è dato conto sopra. Le conseguenze di questa situazione sono state evidenti. L'immagine della migrazione, assunta senza discussione alcuna, è stata utilizzata dalla storiografia italiana per delineare come un dato di fatto non discutibile la natura arcaica dell'invaso dei Longobardi. Partendo da questa base, si costruiva poi la storia successiva del Regno Longobardo. La migrazione quindi rappresentava un elemento di estraneità iniziale che contribuì a innalzare una barriera tra i Longobardi che emergevano dall'oscura preistoria del Barbaricum, dove avrebbero vagato per secoli, e i Romani italici, eredi della millenaria tradizione di civiltà del Mediterraneo. Due popoli che non avevano nulla in comune, lontanissimi fra loro, il cui lento, troppo lento avvicinamento costituì il leitmotiv della loro breve storia comune, fino al fallimento finale del Regno di fronte all'espansionismo franco e al dinamismo papale. Nella relazione di oggi, nel parare dei Longobardi, anch'io mi lascerò alle spalle il dibattito internazionale sulle migrazioni dei poveri barbarici. Un dibattito che, come abbiamo visto nei primi giorni di questa settimana, rimane uno dei più vivaci della storiografia e della ricerca archeologica contemporanea. Quindi, i motivi di questo mio lasciare da parte il dibattito sono, da una parte se ne è parlato in questi giorni, e comunque sarebbe impossibile darne conto qui in modo adeguato. È un dibattito, diciamo, vastissimo e aperto. Dall'altra, perché, più modestamente, le mie idee su questo argomento le ho già espresse più volte, non mi piace molto ripetermi, e vanno, queste mie idee, brevemente, nella direzione indicata da coloro che propendono, pur con significative differenze e talvolta anche aperti contrasti fra loro, per una fine non traumatica del mondo antico, ossia per una progressiva trasformazione del mondo romano, realizzatasi gradualmente nel corso di tre o quattro secoli, e che, come conseguenza collaterale di questa idea più generale, respingono l'ipotesi di uno spostamento di grandi masse di popolazione all'origine del collasso dell'impero occidentale. Faccio parte, cioè, di coloro che respingono l'idea tradizionale di origine ottocentesca di migrazione. La posizione che assumerò qui è molto semplice. Come è stato scritto in un libro recente di Francesco Borri, partirò dal presupposto che i Longobardi di cui parlerò fossero uomini, gruppi di uomini, che nel VI secolo, o poco prima, si erano riuniti intorno a due capisaldi, un nome antico e relativamente prestigioso, e un intraprendente capo militare al Boino, il cui successo, certificato dalla spedizione italiana, determinò un primo, temporaneo consolidamento della fisionomia di quell'agenza Longobardorum che a noi nota dalle fonti del primo Medioevo. Di conseguenza, non cercherò di ricostruire la migrazione Longobarda con tutte le sue tappe, come appaiono nel racconto della saga. E non solo perché si tratta, a mio modo di vedere, di un tentativo destinato all'insuccesso, ma anche perché, con i Longobardi di cui ci occupiamo qui, quel racconto non ha nulla a che fare. Ciò non significa, naturalmente, e l'ha mostrato più volte Walter Paul nei suoi studi, che il racconto della saga sia privo di significato, solo che esso non rappresenta una guida per seguire le tappe della migrazione dei Longobardi che invasero l'Italia, ma al contrario costituisce un texto of identity. La saga, cioè, è un testo costruttore dell'identità Longobarda, messo per iscritto negli ambienti della corte di Pavia alcuni decenni dopo lo stanziamento in Italia. Ad un certo punto, all'interno del racconto, sia dell'Origo, sia di Paolo Diacono, i nomi di luogo antichi, pre-etnografici, come ho ricordato la definizione di Wolfram, lasciano il posto a quelli delle province romane. Questo cambio coincide con lo stanziamento dei Longobardi proveniente dal Danubio in Pannonia, un fatto che avvenne dopo la vittoria sugli Eruli nei primi decenni del secolo VI. Questo cambio di terminologia coincide anche con il ritorno del nome dei Longobardi nelle fonti scritte, dalle quali mancava da quasi quattro secoli, una situazione delle fonti che non parla certo a favore di un'evoluzione e di una migrazione ininterrotta dei Longobardi. È probabile, come ha osservato Walter Paul, che nei decenni precedenti nella regione danubiana, nell'ambito degli sconvolgimenti verificatisi in conseguenza del crollo dell'Impero I, si fosse attuata una sorta di nuova etnogenesi dei Longobardi. Impiego qui la parola etnogenesi in senso più ampio di quello usato da Venscus per indicare semplicemente una completa trasformazione del gruppo che si riconosceva dietro quell'etichetta elettrica. I Longobardi in Pannonia in sostanza erano un popolo nuovo e questi nuovi Longobardi che in Pannonia divennero federati dei Romani sono loro, come ho detto poco fa, l'oggetto del mio interesse loro e la loro migrazione in Italia. La natura di Federati assunta allora dei Longobardi coincise con un altro forte cambiamento. Essi furono inseriti infatti in una regione romana anche se sconvolta dalle guerre ottenendo da Giustiniano e cito Procopio la città di Norico e le fortezze della Pannonia e in più molto denaro ossia ricevettero terra per stanziarsi e del denaro in cambio del loro servizio di federati. Non conosciamo bene la situazione dell'amministrazione romana in Pannonia all'epoca dello stanziamento Longobardo avvenuto probabilmente nel 526 però due lettere di Cassiodoro scritte vent'anni prima disegniamo il quadro di un'amministrazione tardo-romana nella Pannonia Sirmiensis che era perfettamente funzionante anche se sotto il governo Ostrogoto. Difficile dire quanto ne fosse rimasto in piedi nei decenni successivi e quanto quindi i Longobardi potessero contare sul prelievo delle imposte oppure in che misura dovessero affidarsi al ricevimento di somme di denaro periodiche da parte imperiale. Naturalmente questa riflessione è importante in relazione all'ambiente che i Longobardi trovarono poi in Italia dove dovessero far fronte a problematiche analoge. Le fonti scritte che ci parlano dello spostamento in Italia dei Longobardi sono notissime e al tempo stesso sono largamente insoddisfacenti. Si va dalla cronaca contemporanea di Mario de Vance al continuatore di Prospero a Paolo Diacono alla stessa Origo a Giovanni di Biclaro. La più interessante è quella di Mario de Vance se non altro perché utilizza la parola fara da sempre una di quelle che risvegliano la sensibilità degli storici dei Longobardi. Mario dice che i Longobardi incendiarono la Pannonia ossia fecero una sorta di terra bruciata con il probabile intento di rendere difficile l'insediamento in un'area così vicina all'Italia. Notizia che però contrasta con quella di Paolo Diacono secondo cui invece i Longobardi avrebbero lasciato la Pannonia e gli Avari con il patto che se fossero tornati indietro Rursus su Arva Repeterent ossia avrebbero potuto rivedere di nuovo le loro terre. All'interno di queste testimonianze è interessante la duplice terminologia utilizzata da Mario secondo il quale Alboino avrebbe lasciato la Pannonia cum omni exercitus e poi dopo aver incendiato la sua patria pannonica con le donne e con tutto il popolo avrebbe occupato l'Italia in Fara. Duplice è pure la terminologia utilizzata da Paolo Diacono che ci presenta Alboino appena entrato in Italia insieme con tutto l'esercito e con una folla eterogenea di popolo. La fisionomia di spedizione militare appare quella predominante e forse anche l'espressione in Fara come è stato detto più volte potrebbe riferirsi al medesimo ambito militare. Il continuatore di Prospero che scrive circa mezzo secolo più tardi di Mario afferma che Alboino fu invitato da Narsete questo dell'invito diciamo a un punto su cui tornerò più avanti cum omni exercito suo e che poi Alboino invasa d'Italia cum omni gente langobardorum quindi sempre concetto doppio. Lo stesso concetto di spedizione militare ritorna nel prologo di Rotary dove si dice che Alboino portò in Italia l'esercito e la conferma del fatto che era l'esercito la componente fondamentale dell'invasore lungo parte. La composizione della spedizione che invasa l'Italia sotto Alboino è presentata in modo insolitamente preciso da Paolo Diacono che ci dice in un passo che sono notissime tutte fonti notissime in questo che ho cito che Alboino aveva unito al nucleo rappresentato dai Longobardi molti uomini appartenenti a diversi popoli sottomessi dagli stessi Longobardi Gepidi Bulgari Sarmati Pannoni Svevi Norici e altri ancora la notizia in sé è valida tuttavia il fatto che Paolo nella sua cronaca nomini questi gruppi aggregati ai Longobardi che sono formati sia da da Barbari che da provinciali i Pannoni e i Norici li nomini solo molto dopo aver parlato dell'avvio della spedizione e questo fatto lascia qualche dubbio e va valutato il fatto che sia solo lui solo Paolo a nominarli mentre le altre fonti li ignorano al momento del racconto della partenza Paolo aveva nominato solo i Sassoni gli altri li menziona più avanti dopo che ha descritto le prime vittorie di Alboino e l'occupazione da parte sua di vasti territori in Italia e per di più diciamo fa questa menzione dei vari gruppi il riferimento al nome di una serie di villaggi esistenti nell'Italia del Nord e che portavano proprio i nomi di quei popoli è possibile quindi che si sia trattato almeno in parte di una deduzione tratta da Paolo proprio dai nomi dei villaggi e non di un'informazione che egli aveva autonomamente nell'Italia del Nord c'erano effettivamente molti barbari la cui presenza era indipendente rispetto alle imprese del Boino antichi prigionieri di guerra installati sul territorio goti e altri ancora che erano arrivati altri guerrieri ancora che erano arrivati con i franchi nelle loro incursioni tutti costoro poterono certamente unirsi ai Longobardi ingrossando il numero di coloro che erano partiti dalla Pannonia poiché la presenza di gruppi di barbari e di provinciali che si unirano ai Longobardi è comunque sicura in apparenza queste ultime riflessioni non sembrano importanti e invece secondo me lo sono perché optare per una presenza di alcuni almeno di questi gruppi in Italia già prima dell'invasione permette di sfumare l'idea dei Longobardi invasori d'Italia come una van der Lavine una slavina migratoria una valanga migratoria che è quel fenomeno che si realizzerebbe quando un popolo nel suo inarrestabile movimento trascina con sé i popoli o i brandelli di popoli che incontrano il suo cammino si tratta di un termine questo van der Lavine utilizzato da Reinald Venskus che è al centro della sua teoria dell'etnogenesi il fatto che io ritenga che esso sia inapplicabile ai Longobardi non significa affatto negare l'esistenza di una vera e propria etnogenesi dei Longobardi sempre intendendo questo termine nel senso indicato prima che si verificò in occasione della conquista dell'Italia significa solo interpretare questa etnogenesi come un fenomeno che iniziato prima dell'invasione continuò e si completò sul suolo italiano ciò aiuta a ridimensionare la massa degli invasori anche se come abbiamo visto da molte relazioni dei primi giorni in particolare dalla relazione di Jan Wood che contare in questo campo diciamo nell'ambito delle migrazioni barbariche è sempre molto difficile tuttavia ritengo che l'immagine dei Longobardi che come è stato scritto entrava in Italia come una risiga van der Lavigne una gigantesca talavina migratoria con i guerrieri le loro famiglie gli animali tutti i loro averi che si muovono su carri a cavallo e a piedi sia un'immagine più romantica che reale questa immagine era fortemente influenzata dal modo stesso in cui la migrazione era narrata nelle saghe ma un'analisi attenta di questi testi ha dimostrato chiaramente che siamo di fronte a narrazioni quelle delle saghe che erano costruite secondo il modello biblico il popolo migrante come Israele deve affrontare innumerevoli prove e gli scontri con altri popoli per un tempo lunghissimo prima di raggiungere la terra promessa ossia nel caso Longobardo l'Italia il notissimo passo di Paolo Diacono in cui ci viene mostrato il boino che sale sul monte Giove e da lì contempla l'Italia è il parallelo esatto del passo biblico in cui Mosè contempla all'alto del monte Nebo la terra promessa dove non gli sarà concesso di entrare una circostanza che in fondo si adatta anche all'alboino che entrerà sì in Italia ma per morirvi molto presto in entrambi i casi si tratta di scene cariche di significati nefasti l'adozione di un modello narrativo antico e prestigioso come quello biblico non implica di per sé la falsità delle notizie riportate ma certo toglie alla narrazione un valore di ricostruzione puntuale in effetti il concetto stesso di migrazione di massa oggi come abbiamo visto è messo in discussione anche se non da tutti anche le espressioni delle fonti che in riferimento a Longobardi parlano di tutto il popolo come abbiamo visto potrebbe rispondere ad un topos e non essere del tutto credibile insomma secondo me immaginare una gigantesca migrazione di massa dalla Pannonia nell'Italia appare difficile la storiografia sulla base delle fonti scritte propone di solito numeri di 80 100 mila persone per i vari popoli barbarici Jörnoth in un articolo famoso già esaminato in modo critico da me anni fa e più di recente da Michael Borgolte ha provato a identificare il numero dei Longobardi di Alboino con un ragionamento complicato che qui non riporto condotto sulla base di un difficile paragone con i vandali invasori dell'Africa romana nel 429 per i quali ci sono dei numeri dati dalle fonti la sua proposta circa 100 150 mila persone di cui meno di un quarto guerrieri alla fine non si discosta da quelle tradizionali le fonti antiche basate sulle fonti antiche le fonti antiche che cercano di misurare la consistenza numerica dei barbari come abbiamo visto molto spesso si rifanno anche a modelli ancora una volta come quello biblico e in parecchi casi sembrano copiarsi l'una con l'altra e parlano per lo più di numeri che sono multipli o sottomultipli di 40 o naturalmente di 10 come ha notato a suo tempo Walter Goffard pure 20.000 sassoni che secondo Paolo Diacono si unirono ai Longobardi nel 568 rientrano in questi stessi rapporti numerici molto convenzionali a mio modo di vedere sono tutti numeri senza valore il numero dei Longobardi invasori è destinato a rimanere sconosciuto spostiamoci quindi nell'impossibilità di risolvere questo problema su un'altra questione le modalità della spedizione e dell'invasione lo stesso Jarnot dopo aver correttamente mostrato come un'unica migrazione della massa di popolo da lui individuata sarebbe stata impossibile giacché la colonna sarebbe stata lunga 100 chilometri propone una soluzione alternativa i Longobardi sarebbero discesi in Italia divisi in gruppi militari che per lui sarebbero le fare intese comunità familiari e reparti militari al tempo stesso a conclusione in fondo non del tutto dissimili o partendo da presupposti molto diversi arriva anche Borgolte che parla di una catena di migrazioni successive secondo lui ci sarebbe stato un primo evento fondamentale una grande spedizione guidata dal boino che però non avrebbe incluso tutto il popolo solo dopo i successi dal boino in Italia e la mancata resistenza bizantina altri gruppi in Pannonia si sarebbero uniti ai guerrieri al boino con un flusso che sarebbe durato fino all'affermazione della monarchia con Auteri del 584 poiché ci muoviamo in un ambito del tutto teorico non avendo fonti che possano realmente guidarsi è difficile giudicare questi tentativi di interpretazione tuttavia l'idea della penetrazione di un gruppo principale seguito poi da ondate successive così come espressa da Borgolte è del tutto plausibile e corrisponde anche alla nostra conoscenza dei moderni meccanismi migratori i lungoparti dal boino erano un gruppo da identità etnica fluida un esercito polietnico da decenni federato dei romani di cui facevano parte ovviamente donne bambini e schiavi ma in misura forse non molto maggiore di quanto essi non fossero presenti in qualunque esercito tardo antico proprio a questo proposito si può ricordare l'esistenza molto significativa di tre epigrafi funerali del IV secolo trovati in Italia a Quileia e Arezzo e in Trascia che ricordano una donna e due bambini che sono indicati come appartenenti a reparti militari romani e questo è un tipo di ricerca secondo me che andrebbe proseguita che potrebbe dare risultati interessanti i lungobardi migranti devono essere quindi piuttosto simili agli eserciti che l'Italia aveva conosciuto durante la guerra gotica che anche se appartenenti all'uno o all'altro schieramento erano molto simili fra loro e invece erano molto diversi anche il cosiddetto esercito romano dalla popolazione romana italica la distinzione tra civili e militari del resto era un dato di fatto consolidato da secoli all'interno del mondo romano un dato che tra l'altro aveva trovato una recente conferma proprio in riferimento all'Italia nel testo della pramatica sanzione emanato da Giustiniano nel 554 che distingue tra milites e romani vengo adesso ai motivi della migrazione o potremmo anche dire dell'invasione d'Italia gli studi tipo antropologico sulle migrazioni condotti dalla scuola nordamericana diciamo così hanno elaborato la cosiddetta migration theory che prevede l'individuazione dell'esistenza di una serie di fattori denominati push e pull fattori cioè di spinta di attrazione che sarebbero stati alla base delle diverse migrazioni fra la tarda antichità e l'alto medioevo i fattori di spinta sarebbero stati rappresentati dalla sconfitta di alcuni capi e dei loro seguaci nelle lotte per la supremazia al di là dell'imes mentre quelli di attrazione i fattori di attrazione erano costituiti dalle opportunità offerte dai vuoti di potere determinati dal crollo progressivo delle strutture dello stato romano in occidente questi meccanismi ancora una volta teorici appaiono plausibili a patto però di non irrigidirli e vanno comunque testati per i Longobardi nel loro caso ad esempio non è possibile parlare di una sconfitta come origine della migrazione visto che i Longobardi avevano appena terminato vittoriosamente la guerra con i Gepidi anche se potremmo interpretare il loro spostamento in Italia come riflesso del timore della forza militare degli avari che pure erano stati i loro alleati in Italia i Longobardi avrebbero potuto infatti sottrarsi più facilmente ad una possibile se non probabile sottomissione al regime avarico e non bisogna dimenticare il fatto che nello stesso periodo si andavano affermando nell'area diciamo pannonico da rubiana sia pure spesso sotto tutela da parte degli avari i primi gruppi slavi non solo al nord ma anche a sud del Danubio in questo modo quindi individuando una serie di fattori che potrebbero aver spinto i Longobardi rientreremo nello schema teorico che ho appena presentato l'attrazione invece era senza dubbio rappresentata dalla penisola italica che rimaneva una delle regioni più ricche dell'occidente romano nonostante le grandi distruzioni della guerra gotica a questo si aggiungeva il fatto che la presenza militare bizantina appariva abbastanza debole in particolare dopo la destituzione di Narsete qui entra in scena la storia dell'invito di quest'ultimo di Narsete ai Longobardi è una storia molto dubbia che oltretutto nel testo di Paolo Diacono ricalca un passo di Tito Livio riferito all'invasione gallica dell'Italia del 390 a.C. e dunque sembra essere un topos letterario proprio dei racconti sulle invasioni barbariche però come ho già detto prima la notizia presenta anche in fonti più antiche il continuatore di Prospero e anche il liber pontificalis la vita del Papa Giovanni III non è quindi impossibile che sia una notizia vera o che almeno abbia un fondo di verità visti di sapori noti tra Narsete e la corte imperiale in ogni caso non si tratta di un fatto di importanza decisiva perché la debolezza della posizione bizantina in Italia era piuttosto evidente e costituiva già di per sé un forte motivo di attrazione inoltre l'ingresso in Italia dei Longobardi non può in nessun modo essere inserito in un quadro ordinato di rapporti di federazione con l'impero l'eventuale invito se vi fu sarebbe da collegarsi proprio alle conseguenze della destituzione di Narsete i Longobardi insomma non sarebbero entrati in Italia per presidiarla per conto dell'impero come è anche stato scritto e poi si sarebbero messi in proprio ma fin dall'inizio la loro fu una vera e propria invasione effettuata con la connivenza o meno di Narsete e dei suoi ufficiali i Longobardi conoscevano l'Italia per avervi combattuto proprio agli ordini di Narsete nel corso della guerra gotica in due occasioni distinguendosi in particolare nella decisiva battaglia di Tagina del 552 a questo proposito va ricordato che la parentela di Audoino e dunque di suo figlio Alboino con la dinastia Amara non aveva impedito ai Longobardi di combattere i goti di conseguenza che Alboino pochi anni dopo abbia potuto e voluto far pesare questa sua parentela per attirare dalla sua parte i contingenti goti ancora presenti in armi in Italia secondo una vecchia ipotesi di Giampiero Bognetti mi sembra poco probabile i Longobardi inoltre conoscevano la regione non solo grazie ai reduci di quella vecchia spedizione ma anche perché avevano avviato dei contatti precisi inviando degli esploratori per sondare il terreno degli scout come sono definiti nell'ambito della migration theory la notizia ci è rivelata da una lettera è una notizia sola peraltro ma insomma la notizia ci è rivelata da una lettera inviata dal vesco Nicezio di Trevili alla moglie franca di Albuino Clotilde in un anno purtroppo non precisabile con sicurezza anzi non precisabile affatto e tuttavia precedente all'invasione d'Italia dunque quando la corte di Longobardi era ancora in Pannonia anche se il testo è un po' oscuro comunque si capisce che Albuino aveva inviato dei suoi fideles in visita alle basiliche romane di alcuni santi San Pietro San Paolo San Giovanni questa notizia unita alla precedente permanenza dei guerrieri di Longobardi sul suolo italiano durante la guerra gotica prova che l'invasione non fu un evento improvvisato dovuto solo all'incombente minaccia degli avari o causato da un invito inaspettato proveniente dall'Italia ma al contrario che si trattò di un'impresa accuratamente preparata gli invasori lungobardi entrarono in un paese molto diverso rispetto alla Pannonia un paese dove il tasso di sopravvivenza delle strutture romane era altissimo e di conseguenza al loro interno si innescarono processi di trasformazione molto rapidi in mancanza di fonti scritte in grado di chiarirci quanto stava avvenendo dobbiamo riferirci alle fonti materiali da questo punto di vista è molto significativa la diversità dei sepolcreti pannonici rispetto a quelli friulani della prima generazione di invasori i mutamenti della struttura dei sepolcreti che passano dalla più elementare organizzazione per sesso e per età di quelli pannonici quelli ungheresi a quella più complessa di quelli friulani strutturati per nuclei familiari che sono socialmente differenziati fra loro in modo marcato per ricchezza e tipologia di oggetti funerari dimostrano la profondità dei cambiamenti sociali intervenuti dal gruppo degli invasori nel corso di una sola generazione al punto come ha scritto Irene Barbiera ai cui studi qui mi riferisco dovessi addirittura porre la domanda se i cimiteri delle due aree appartenessero al medesimo gruppo la risposta è sostanzialmente positiva lo stesso gruppo ma sottolinea al tempo stesso la fluidità e l'eterogeneità della composizione interna del gruppo Longobardo come anche il fatto che la migrazione sarebbe potuta avvenire a andate successive come dicevamo prima caratteristiche che entrambe mettevano gli invasioni d'Italia in condizioni di reagire di adattarsi rapidamente alle nuove situazioni tutto ciò mette bene in luce il fatto che ciò che chiamiamo migrazione è più ancora che uno smutamento di sedi insediative è un cambiamento profondo nella società di coloro che si spostano cambiamento culturale insomma e sociale un altro elemento da tenere presente è la concreta possibilità che oltre ai barbari già menzionati prima in Italia si sono uniti a Longobardia anche dei reparti bizantini che erano per la maggior parte di origini barbariche ciò può forse essere provato dal fatto che alcuni ufficiali bizantini secondo il racconto di Paolo Diacono appaiono al loro posto con i loro reparti anche parecchi anni dopo l'invasione i casi da lui citati sono quello di Francione comandante in un presidio sull'isola Comacina di Sisignio generale di stanza Susa che colse il duca Longobardo Zabani in fuga dalla Gallia che aveva invaso insieme con altri duchi di solito queste notizie sono state interpretate come la prova di una resistenza locale di alcune guadigioni bizantine favorita dal fatto che una volta ucciso al boino nel 572 in apparenza saltò qualsiasi strategia coerente di occupazione del territorio italiano da parte di Longobardi questo può anche essere vero tuttavia pensare che Francione ad esempio abbia resistito su un'isola ad un assedio ventennale appare improbabile e lì si era certamente accordato con i capi Longobardi anche se l'accordo a un certo punto non sappiamo perché venne meno più ambigua la storia di Sisignio perché Gregorio di Tur che è la fonte dell'episodio riportato da Paolo di Acono scrive che Sisignio teneva la città a parte imperatoris tanto che gli abitanti avrebbero accolto i Longobardi in maniera ostile tuttavia la notizia vera o falsa dell'arrivo del comandante Franco Mummolo che provocò la fuga di Zaban sarebbe avvenuta tramite la conseglia in una lettera a Sisignio alla presenza stessa di Zaban il che fa pensare che i due non fossero nemici ma al contrario che avesse una sorta di collaborazione magari forzata e che l'arrivo di Mummolo abbia semplicemente liberato Sisignio dalla presenza di un alleato molto scomodo la fluidità della composizione interna dell'agenza Longobardorum fu particolarmente evidente per tutto il periodo che va dalla morte di Albuino nel 572 alla elezione di Autari nel 584 la perdita di un capo militare unico ebbe conseguenze rilevanti a lungo sembrò che la presenza Longobarda potesse essere riassorbita nel ranghi dell'impero che in quegli anni assunse di nuovo al suo servizio molti capi Longobardi i quali come è noto portavano il titolo di duces che faceva parte della gerarchia militare bizantina d'altra parte nello stesso periodo altri duchi rifiutando il fedus con l'impero l'alleanza con l'impero guidarono i loro gruppi militari in direzione del Piemonte anche se quella parte lì la conosciamo pochissimo oppure superarono gli appennini entrando in Toscana e arrivando non molto lontano da Roma tanto che il liber pontificalis ne segnala per la prima volta la presenza alla vita di Benedetto I intorno al 575 altri capi Longobardi tentarono addirittura fortuna al di là delle Alpi come il già citato Zabban la tradizione la tradizione più tarda riportata da Paolo Diacono il quale forse aveva davanti a sé dei cataloghi di duchi assegna a quelli stessi anni l'origine dei due ducati centro-meridionali di Spolite Benevento un'origine che appare probabilmente indipendente rispetto all'impresa di Albuino e che ci deve far interrogare di nuovo sulla coesione interna dei Longobardi che appare molto fragile Come è stato notato da Walter Paul la presenza di gruppi di Longobardi nell'esercito bizantino nelle guerre contro i persiani così come le due spedizioni italiane contro i goti sempre a fianco dell'esercito imperiale sono la prova della difficoltà di tenere insieme un gruppo eterogeneo e dell'identità ancora piuttosto fluida tanto più che ciò era avvenuto mentre in Pannoni i Longobardi erano in guerra o comunque erano sottoposti a grave minacce da parte di altri popoli Una situazione analoga si verificò in Italia La mobilità dei gruppi guidati dai diversi ducchi non penso che possa essere interpretata come la mobilità di singole unità del popolo migrante ossia delle fare o di gruppi di fare quindi di arcaici nuclei a carattere gentilizio come sosteneva Jorgi Arnott sulla scorta del notissimo passo di Paolo Diacono relativo alle fare di Gesù Fodo e Friuli che li vengono definite Generaciones Vel Lineas Quelli che vediamo in azione sono piuttosto singoli di staccamenti militari sotto i loro comandanti che cercano di controllare dei territori piuttosto ristretti che secondo Paolo avrebbero avuto al loro centro delle città e vista la natura urbana dell'Italia la notizia sembra attendibile certo è possibile che questi distaccamenti contenessero al loro interno gruppi familiari più o meno compatti questo lo si può vedere ad esempio da un'edita di Gregorio Magno del 591 che parla di famiglie che dipendono da un certo Nordulfo e da altri campi dal nome barbarico tuttavia questi guerrieri facevano parte delle truppe imperiali a conferma di quanto fosse sottile i confini tra i Longobardi e i soldati di Bisanzio di quanto fosse simile invece la loro struttura interna per cui era facilissimo passare da una parte all'altra lo dimostrano i casi famosi di Gisulfo del Friuli di Droctulfo che finiva la sua carriera con i bizantini e di Ariulfo duca di Spoleto che lo sappiamo ancora una volta da una lettera del Gregorio Magno per un certo periodo almeno fu al soldo dell'impero pagare lui e altri campi come lui poteva essere un modo per assicurare la pace una pace precaria che poggiava su richieste di denaro fatte alle autorità locali romane da parte dei Longobardi o non è da escludere fatte da parte di quegli altri comandanti barbarici attivi nell'Italia centrale come Nordulfo che erano con l'impero ma che potevano anche se necessario mettersi in proprio o unirsi ai Longobardi secondo Bognetti e penso che potesse aver ragione proprio la rivolta di truppe federate sarebbe stata l'origine del ducato spoletino e forse anche di quello beneventano dunque l'impressione che si ricava dalle poche fonti a nostra disposizione è che i Longobardi fino al 584 quando viene eletto Autari più che un popolo migrante fossero un insieme di reparti militari di ex federati che controllavano in modo abbastanza saldo l'Italia settentrionale con alcune propaggini più fluide e sostanzialmente autonome nel centro e nel sud della penisola i loro capi i duchi alternavano la ricerca di un accordo con le autorità romane agli atti di guerra di una guerra però che con queste premesse era condotta da gruppi ristretti insomma era una sorta di guerra per bande allora mi avvio alla conclusione e quindi per concludere le cose che ho detto finora vorrei fare due considerazioni finali la prima è che in relazione al periodo 572 584 ossia dalla morte di Alboino all'elezione di Autari ragionare come spesso si è fatto nei termini di un'alternanza tra monarchia quindi Longobardi sotto un re anarchia ducale cosiddetta anarchia ducale e di nuovo monarchia significa impiegare non solo una terminologia poco appropriata per l'epoca ma anche dei concetti sbagliati anarchia ducale del tutto diciamo inappropriato ma anche dei concetti sbagliati l'instabile comando di Alboino e il suo titolo di re si legavano solo al suo successo militare e la sua morte precoce seguì l'abituale affermazione dell'autonomia dei diversi reparti militari Longobardi solo con le elezioni di Autari nel 584 la regalità Longobarda iniziò davvero la sua storia fu a partire da quel momento anche grazie all'azione decisiva del successivo re Agilulfo da quel momento che i Longobardi persero progressivamente le loro caratteristiche di esercito federato e vennero gettate le fondamenta della costruzione del regno la seconda considerazione è che la migrazione Longobarda interpretata nei termini e nei limiti con i quali l'ho presentata proseguì ben oltre il passaggio delle Alpi Giulie anch'essa finì solo quando la regalità con Autari iniziò il suo percorso storico forgiando ben presto proprio con la memoria fantastica della migrazione una vera identità al popolo conquistatore e alla sua elite grazie grazie